Sera finita, domani inizierà questa raccolta firme? Sì, Movimento 5 Stelle mette a disposizione i propri banchetti informativi da domani mattina alle 10 in corso a Matteotti, precisamente davanti ai Gabuccini, per favorire una raccolta di firme a sostegno di una petizione che presenteremo al Sindaco per porre rimedio a questa bolletta esagerata che è arrivata pochi giorni fa nelle case dei Fanesi. Che cosa conterrà nello specifico questa petizione? Nella petizione chiederemo al Sindaco di attivarsi con le sue prorogative per fare in modo di sospendere questa riscossione della bolletta, perché riteniamo che questa bolletta che contiene il recupero per un intero anno, un conguaglio degli aumenti che ci sono stati e sono stati decisi alla fine del 2018, contenendo appunto il recupero per l'intero 2018 riteniamo che sia ingiusto per i cittadini che non hanno avuto modo di adeguare le proprie abitudini di consumo a queste nuove tariffe e riteniamo anche che ci sia di dubbia legittimità andare a recuperare per un così lungo periodo di tempo l'aumento tariffario, anche perché poi le tariffe sono aumentate e sono state deliberate in tempi successivi a quelli che l'Aerera aveva deciso come termine ultimo, cioè il 34 per l'aumento e il 36 per la rimoduluzione della tariffa. Questa raccolta firme poi proseguirà anche nelle prossime settimane? Sì, la raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane tutti i sabati, tutti i sabati mattina e chiederemo nella petizione in subordine, qualora l'amministrazione comunale pensasse che ASET abbia agito correttamente, chiederemo che comunque sia concesse una rateazione di durata di almeno un anno, cioè della durata pari a quella che è stato il recupero dell'aumento tariffario retroattivo e quindi poi chiederemo anche che sia messa a disposizione dei cittadini un fondo di 300 mila euro per aiutare i cittadini che si sono visti arrivare a una bolletta così esagerata a fare fronte a questo pagamento.